Dai ragazzi! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Bravo giuguri! No! Appoggio! Brava giuguri! Dai ragazzi! Sì! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Corri! Ehi! 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 Mi sono buttata! Dai Yekka! Dai Yekka! Dai Yekka! Dove famigliare! Ehi! Ehi! Brava Yekka! Dai! Dai! Traversa! Hai! Bene! 3-2! Dai yekka! Dai yekka! Dai yekka! Dai yekka! Dai yekka! Grazie Grazie Vai più si stai contando con lei Vai al centro Grazie 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 Ma è grezzi! Dove me aspetta? Si! Ma è grezzi! Ma è grezzi! Si grezzi! Un'altra! Due! Si! No! 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 Buongiorno! 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 Si grez! Buongiorno! Una! Salò qui? Buongiorno! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.